buongiorno ragazzi competizioni di trading più grande del mondo non bisogna essere trader professionisti può essere anche semplicemente qualcosa per migliorare tutti insieme vediamo come partecipare quali sono i premi tutto quello che bisogna sapere io sono michael pino oggi è l'ultimo giorno per entrare nella mia squadra c'è il link in descrizione se non raggiungiamo i 20 membri andiamo tutti assegnati a squadre random europee c'è questo bellissimo video di bybit che volevo analizzare insieme quindi andiamo a capire un attimo i premi come partecipare e tutto quello che dicevo prima e gustiamoci anche un po di animazioni carine quindi bybit Vsot 2024 si parte si parte siamo belli carichi andiamo nella più grande competizione di trading cripto la Vsot è tornata incredibile con i più grandi premi della stagione infatti so già che ci saranno fino a 10 milioni di premi più tante altre cose interessanti ma lo vediamo tra poco quindi competizione contro i tuoi rivali a vedere andiamo a vedere ecco quello che c'è squad showdown copy trading fest buddy rally tra poco viene tutto spiegato la squadra showdown è quello che ti dicevo sulle squadre quindi il 10 ottobre l'ultimo giorno in cui ci si può iscrivere link in descrizione perché veramente poco prima della fine iscrizione se non siamo 20 membri nella squadra veniamo assegnati a squadre random europee magari non vogliamo questo poi certo nella competizione qui possiamo anche fare una competizione solo però se siamo una squadra abbiamo anche potenziali premi extra quindi andiamo a vedere tra poco c'è anche decks wave hanno inserito anche il fatto e la possibilità di competere sui decks come ti dicevo prima appunto puoi competere con una squadra invincibile oppure essere in solitario un po questo aspetto gamification che ci sta se vuoi essere in un team vuoi essere un solo ci sta ovviamente essere in un team ovviamente più membri siamo più i premi aumentano oltre 240 mila partecipanti al momento se vado a vedere quanti partecipanti ci sono 37 mila 800 quindi più siamo più vedi che il premio va aumentare al momento c'è un milione e due in premi per squad showdown più saliamo di livello più arriviamo ai 7 milioni solo per lo squad showdown ci sono fino a 10 milioni in premi 3 rolex 6 biglietti per voli in giro per il mondo e un yacht di lusso così premi incredibili e quest'anno competizione più incredibile vedi che c'è il tuo nome vedi che puoi unirti con il tuo uta quindi l'account unified trading e fino a 4 sub account questa cosa è molto molto interessante la registrazione come dicevamo prima per lo squad leader ma in questo caso non ci interessa è fino alle 10 di mattina utc del 9 ma qui la standard registration è dall'1 ottobre al 10 ottobre 10 di mattina utc la registrazione ritardata poi sarà invece su squadre che sono già state create fino al 20 ottobre ovviamente il premio anticipato ma è già passato la gara ufficiale inizia il 10 ottobre quando termino praticamente le iscrizioni delle squadre fino al 31 ottobre quindi ci sono un bel po di giorni di competizione si possono fare un bel po di cose interessanti come già dicevo sul canale telegram in descrizione se ancora non sei dentro potenzialmente se facciamo tutta la squadra completa mi piacerebbe mostrare ogni giorno i miei trade iniziano a fare dei trading in quelle occasioni per la sfida così da mostrare ogni giorno i trade che faccio come sono andati e magari anche condividere qualche trade che faccio sul telegram gratuito però ovviamente devi unirti alla squadra con il link in descrizione per partecipare molto semplice c'è il tasto registrati più semplice di così non può essere anche se sei già iscritto a bybit naturalmente se sei un nuovo utente ti registri e poi ti unisci alla squadra il minimo valore del tuo account per partecipare alla competizione 500 usd perché anche lì ricevevo alcuni dm ieri su instagram mi dicevano non ho 500 usd su bybit quindi non posso partecipare il minimo è questo infatti adesso ti fa vedere appunto i tre scaglioni che sarebbero peso leggero 500 usd peso medio 2000 usd peso pesante o pesi massimi 10.000 usd o più io nell'account che mi sono registrato ho messo ieri il video su telegram ma avevo più di 10.000 dollari e quindi sono un peso massimo quindi prima di tutto che cosa abbiamo lo squad showdown che quello che ti dicevo prima in descrizione c'è la mia squadra andiamo a vedere che cosa ci dicono qui scegli una squadra a cui unirti c'è il nome andiamo a vederlo insieme siamo nella sezione squad showdown scendiamo e qui dentro cerchi il nome puoi mettere mai colpino esce la mia squadra il chiamo cerca ovviamente e poi unirti cliccando join semplicissimo i primi 20 che si uniscono hanno anche 20 dollari bonus hai ancora questa possibilità come vedi essendo una squadra bisogna avere almeno 20 membri per formare una squadra altrimenti si saranno assegnati random si può mettere una squadra pubblica privata la mia pubblica quindi basta cliccare join non servono password o altro come vedevamo prima i premi totali aumentano in base al numero di partecipanti le 10 squadre con il più alto profit e loss percentuale vinceranno il 20 per cento dei premi è veramente veramente tanto oltre a questo le squadre tre squadre con la più alta percentuale di pnl in ogni divisione vinceranno il 20 per cento totale 9 divisioni quindi capiamo che è veramente tanta tanta roba a livello di premi abbiamo capito che sono milioni di dollari i 100 individui con il più alto volume vinceranno il 20 per cento dei premi quindi 100 persone che fanno il volume più alto vinceranno il 20 per cento dei premi anche qui sono veramente tanti soldi e anche i 100 individui con i più alti profit in ogni categoria tier quindi abbiamo visto prima vinceranno il rimanente 40 per cento quindi molto interessante abbiamo la divisione per profitti e la divisione per percentuali perché ovviamente può cambiare anche quello a livello di percentuale posso fare tanta percentuale con meno capitale a livello di profitti devo avere per forza di cose più soldi anche qui come abbiamo visto pesi piuma o pesi leggeri che hanno 500 usdt 10 per cento della profit vanno a dividere il premio chi è nel peso medio 30 per cento chi è nei pesi massimi 60 per cento oltre a questo la squadra con la più lunga streak penso di profitto appunto riceve un premio da dividere di 50 mila dollari molto interessante anche questo rimanere la squadra con la più alta percentuale di profitto per più giorni possibili quindi immagina siamo in profit del spar 100 per cento e sei primo per cinque giorni di fila e sei quella la squadra che ha fatto più percentuale per giorni di fila quindi nessun altro è stato cinque giorni primo tu vai a dividere 50 mila dollari con la tua squadra anche in questo caso carino la squadra dell'anno che riceve più voti porterà a casa 100 mila usdt quest'anno quindi c'è più una questione anche di community la squadra che prende più voti potenzialmente è la community più grossa per qualificarsi ai premi il volume individuale deve essere di 50 mila usdt durante la competizione come dicevamo prima dal 10 ottobre al 31 ottobre fare 50 mila dollari di volume è facilissimo per esempio un trade da 100 usdt in leva 100 ok che può sembrare folle ma sei già arrivato al volume 10 trade in leva 10 da 500 dollari e sei già arrivato se sei uno dei pesi piccoli in ogni squadra vincente il leader prenderà il 20 per cento dei premi delle sue truppe da quel che sembra il top 20 per cento dei membri condivideranno il 30 per cento dei premi e il rimanente 50 per cento sarà diviso equamente tra gli altri membri della squadra che hanno raggiunto almeno i 50 mila dollari di volume ora passiamo al copy trading fest quindi abbiamo appena visto squad showdown andiamo a vedere la seconda fase che è copy trading fest quindi può essere anche più semplice per magari le persone che non vogliono tradare tu puoi comunque iscriviti allo squad showdown e in più fare il copy trading per generare volumi avere operazioni in questo caso puoi essere un master trader quindi una persona che si fa copiare oppure un follower però ovviamente ti devi registrare comunque alla bus 8 altrimenti non viene calcolato quando ti registri vai nella sezione copy trading fest scegli e puoi cliccare go vai nella sezione master trader se vuoi essere copiato oppure follower se vuoi copiare dei trader il rank per i master trader è calcolato sul profit net e loss dei follower e per i follower invece sul pnl accumulato individualmente vincitori in questo caso andranno a dividere 200 mila gli sdt di premi anche in questo caso c'è la baddirelli puoi invitare i tuoi amici invita più amici per fare un primo deposito di 100 dollari e un trade di 500 dollari per avere più possibilità di vincere fino a 100 mila più sdt quindi invitando gli amici alla bus hot si vincono altri 100 mila gli sdt dex wave in questo caso tutto ottobre dura dal primo al 31 in questo caso le regole sono basate su un sistema di accumulazione di punti ogni partecipante del progetto riceve diversi canali per guadagnare punti che poi saranno aggiornati ogni ora progetti che sono quinti più bassi della lista verranno eliminati e rimangono ovviamente quelli in cima che poi saranno ricompensati fare trading in uno squad showdown devi avere il volume di 50 mila dollari come dicevamo prima e così sarai anche legibili al giveaway che viene fatto il 29 ottobre rolex yacht e biglietti di voli internazionali mondiali basta fare quel volume mini che abbiamo visto durante la competizione per essere elegibile partecipare a questo giveaway sarà in live possiamo volendo anche guardarlo insieme o magari seguimi su instagram e telegram perché faccio vedere quando fanno l'estrazione chi vince sarà fuori di testa bene questa è la bus hot regole molto molto semplici andiamo sul sito per vedere brevemente altri dettagli se ci interessano la registrazione finisce in 11 giorni perché appunto c'è la registrazione late però la registrazione per la mia squadra come ti dicevo finisce il 10 di oggi è l'ultimo giorno praticamente per registrarsi qui se vado in home posso vedere il premio attuale 4 milioni di usdt partecipanti 41 mila squad showdown e un milione e 6 copy trading fest 20 mila live stream giveaway 450 mila vs hot dex wave un milione di mantol qui sotto c'è anche tutto il bellissimo calendario che spiega un po come funziona tra tutto quello che abbiamo visto il reward distribution i premi quando li riceviamo verranno distribuiti dall'1 novembre al 12 novembre quindi quando finisce la competizione come è andata la bus hot del 2023 in premi c'erano 8 milioni 864 mila dollari per la prima squadra come premi veramente tanto e il singolo individuo che ha preso più premi 258 mila dollari quindi veramente cifre fuori di testa per una competizione creata sul fatto che già tradiamo in questo caso certo possiamo fare qualcosa di più anche per considerare il fatto che è una competizione vogliamo imparare migliorare possiamo testare nuove strategie possiamo dire ok questo mese sarà bello più intenso anche perché ho potenzialmente dei premi interessantissimi che voglio portarmi a casa quindi faccio del mio meglio ed è anche tutta una questione di crescita personale tra virgolette sul proprio trading perché quando impariamo e affrontiamo una sfida una competizione un match sappiamo sempre che usciamo fuori con delle lezioni imparate e quello ci porta a essere più di successo nei mesi successivi negli anni successivi quindi semplicemente quest'anno ho fatto questa gara mi sono posizionato cinquantesimo sparo a caso primo che cosa ho imparato da questo cosa voglio ottenere da qui all'anno prossimo cosa mi ha dato rispetto a prima cosa ho imparato in queste settimane giornate di trading ho imparato a gestire meglio la psicologia a gestire meglio certe posizioni ho imparato ad utilizzare meglio delle medie mobili con una strategia ho fatto journaling e ho imparato queste cose quindi che dire ti invito nella mia squadra link in descrizione competizione incredibile non vedo l'ora di divertirci un like iscriviti al canale per non perderti aggiornamenti e noi come al solito ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao